Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come ho detto al titolo ci sono delle novità sul prossimo DLC di GTA Online e soprattutto cosa richiesta da molti, quanti soldi serviranno per il prossimo DLC. Ma prima di cominciare con il video come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi tutti quanti i contenuti che arriveranno con il prossimo aggiornamento di GTA Online, praticamente appena Rockstar farà uscire qualcosa ve lo porterò subito sul canale. Mi raccomando iscrivetevi visto che più del 50% di voi guarda i video senza essere iscritti quindi mi raccomando fatelo e poi come al solito nella descrizione di questo video trovate lo shop per aggiunte soldi e account a prezzi stracciati quindi preparatevi al meglio per il prossimo DLC e ovviamente anche il gruppo Telegram più grande in Italia per trovare giocatori con cui appunto giocare a GTA Online. Inoltre vi ricordo che il contest per aggiunte soldi e account è ancora attivo sul mio profilo Instagram quindi trovate il link in descrizione e in più il giorno 13 la mattina saremo in live su YouTube quindi mi raccomando passate così che appunto ragazzi potrete vedere il DLC insieme a me giocare insomma e tutto quanto. Quindi come vedete questo qui è un post scritto su GTA Forums è uscito un paio di giorni fa ed è praticamente una specie di mega leak con alcuni dei contenuti del DLC che Rockstar non aveva appunto rilasciato all'interno del Newswire. Come vedete arriveranno 50 nuovi posti auto quindi praticamente 50 nuovi veicoli tradotto circa 50 anzi per essere più precisi. Poi il covo dei giugalo avrà un appunto area per modificare i veicoli. Contenuti del DLC della polizia mai rilasciato da Rockstar Games verranno aggiunti gradualmente e sono principalmente armi. Sono il fucile della polizia, un SMG da rivolta, una versione speciale della Stangun fatta proprio per Cops e in Crocs che vi ripeto non è mai uscito come DLC però come avete visto c'era effettivamente in programma e poi un bastone. Aggiunge sotto insomma il tema di alcune missioni praticamente principalmente il nome visto che il tema non lo conosce comunque sono queste qui e ne aggiungeranno altre e poi ci sarà come collezionabile pupazzo di neve quindi sarà una specie di collezionabile stile Halloween e probabilmente Rockstar lo aggiungerà per Natale insomma visto il tema. Proseguendo Rockstar nel post Newswire di ieri ci ha dato altre informazioni ovvero che questo Acid Lab quindi questo laboratorio di acidi che sarà il fulcro del DLC sarà all'interno del MTL Brickades 6x6 quindi questo laboratorio di acidi praticamente sarà un laboratorio mobile anche Tesla ha definito un MK2 dei business quindi probabilmente potremo fare tantissimi soldi con questo DLC. E qui abbiamo una foto del MTL Brickades 6x6 e come vedete sarà anche modificabile con alcune livree non presenti al momento su GTA Online qui vediamo DAX e RON versione diciamo nuova per GTA Online. Quindi quanto ci servirà per questo DLC? Allora partiamo dal fatto che arriveranno 50 nuovi posti auto circa 50 nuovi posti auto quindi probabilmente Rockstar andrà ad aggiungere una cinquantina di nuovi veicoli cosa mai successa ragazzi perché insomma normalmente ogni DLC ne aggiungono una ventina 15-20 quindi ne vanno aggiungere praticamente il doppio a questo giro considerando che il prezzo è leggermente lievitato di tutti quanti veicoli facciamo un milione e mezzo a veicolo più o meno tra prezzo di base e modifiche alcuni veicoli insomma ovviamente costeranno di base un milione e 5 ma è giusto per fare una stima al volo. Vi vengono fuori 75 milioni solamente considerando questi 50 veicoli che vi costano un milione e mezzo l'uno. Poi considerate che arriveranno queste nuove armi e immagino che Rockstar un bastone ve lo faccia pagare anche 500 mila dollari solo perché per il nuovo DLC considerate anche in questo caso 600 mila 700 mila ad arma. Sono circa 2 milioni e mezzo io adesso ragazzi il bastone non lo includerei neanche perché veramente se mi fanno pagare più di 30 mila dollari un bastone insomma sarebbe veramente da distruggerli. Poi considerando che abbiamo il nuovo Acid Lab che sarà una modifica probabilmente dell'MTL Brickade e l'officina io queste due cose le mettere insieme e secondo me 5-10 milioni vi partono considerando insomma il comprare il tutto e modificarlo soprattutto perché quando Rockstar raggiunge un nuovo business normalmente 5 milioni partono considerando che ci sarà anche questa nuova officina all'interno del covo dei Giuggalo secondo me sarà una modifica extra da almeno un milione. Comunque ci sta ragazzi. Rimarrerei attorno al range dei 5-10 milioni anche in questo caso per stare proprio larghi. Quindi quanti soldi vi serviranno per questo DLC? Avete visto? 75 milioni per i veicoli se fate insomma il calcolo che ho fatto io un po' di più un po' di meno comunque siamo intorno lì. Invece per quanto riguarda il business se volete solamente il business secondo me 10 milioni vi bastano ed avanzano. Considerate anche che sicuramente tutti quanti i veicoli non verranno rilasciati al day one ma li aggiungeranno in drip feed come hanno fatto quindi probabilmente finiranno di rilasciarli nel 2025. Invece un consiglio per chi deve fare questi soldi il metodo migliore per fare milioni al momento su GT Online oramai lo sapete meglio di me è Caio Perico trovate tantissime guide sul canale per fare il colpo da soli. Invece se volete sfruttare i bonus settimanali vi consiglio di fare i colpi appunto le missioni omicidio in linea di Franklin sarebbero appunto quelle missioni che si sbloccano avendo l'agenzia insomma una volta che avete fatto 3-4 contratti confidenziali riceverete dopo mezz'oretta la chiamata di Franklin in cui appunto vi sbloccherà questi omicidi in linea che sono divertentissimi da fare con paga doppia arrivate anche a 70-80 mila dollari completando il bonus che è veramente una cavolata. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti vi aspetto questo martedì sul canale per tutti quanti i contenuti dell'ILC e per insomma i vari video vi ringrazio della visione e noi ci vediamo al prossimo video.